Da oggi al via per i soggetti ritenuti fragili la distribuzione gratuita delle mascherine voluta dal presidente della regione Lombardia, Atilio Fontana. 3,3 milioni i pezzi disponibili, in provincia di Cremona ne verranno forniti in tutto 126 mila, benché sui criteri di assegnazione. Dubbi sono stati avanzati dal sindaco e del capoluogo Gianluca Galimberti. Intanto i numeri ufficiali diffusi ieri parlano di un calo nel numero dei morti, solo 13 nel giro di 24 ore, portando il totale a quota 703, mentre i contagi sono saliti di 79 nuovi casi, portando il totale a quota 4.233. In ogni caso, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, sarebbe iniziata ormai la fase 2, la curva, cioè del morbo, avrebbe iniziato la propria fase discendente. Oggi nuova convocazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, voluta dal prefetto Vito Ranillo Gagliardi per fare il punto della situazione.